Una mostra di McCarrie a Modena, Palazzo dei Musei, ospitata dalle Gallerie Estensi, una mostra dedicata alla lettura, che fa vedere il potere, la magia che la lettura esercita a chi scopre i libri per la prima volta o chi li usa per ragioni spirituali. Sono foto che ritraggono le persone che leggono in contesti a volte pericolosi, a volte chiassosi, a volte polverosi, ma che ci fa rimpiangere nella nostra società aver perduto quell'incanto con la parola scritta. Questa mostra alle Gallerie Estensi chiude una serie dedicata a libri e lettura e ne apre un'altra dedicata alla fotografia.